la grazie finalmente vi posso dare questa fantastica notizia insieme a medical tutor siamo stati in grado di organizzare una fantastica summer school indovinate quando quest'estate dal 26 al 30 di luglio praticamente faremo delle cose wow in pratica ci saranno 5 giorni intensivi di dissezioni su cadaveri un'ora al mattino la lezione teorica e poi 5 ore di pratica massimo due tre persone sul cadavere è una cosa wow fantastica e sono felicissimo di annunciarvi quindi seguite medical tutor per maggiori informazioni e ci vediamo quest'estate